Siamo molto preoccupati per questa decisione del governo irlandese e soprattutto per il silenzio assenso della Commissione perché riteniamo innanzitutto sbagliato non aver preso in considerazione il voto a larga maggioranza espresso dal Parlamento europeo quando abbiamo discusso proprio di etichettature salutistiche, di health warning quando si discutevamo della lotta contro il cancro nella Commissione Beca. C'è stata una maggioranza schiacciante che ha detto no ai health warning, cioè a dire a tutti i prodotti alcolici nuoce gravemente alla salute, sì invece all'educazione alimentare, a programmi di educazione e informativi nei confronti del consumatore.